Buongiorno, come vedete la strada è vuota e non ci sono auto da nessuna parte. Ora vi spiego. Non c'è un apocalisse zombie in corso, credo, ma la maratona di New York. Questa è la 73esima strada ed è chiusa al momento perché poi faranno passare le persone quando la maratona sarà finita, siccome finirà sulla 72esima strada. Qua sarà strapieno di gente, quindi hanno chiuso un po' di strade per far defluire le persone una volta finita la maratona. Ora, sono partiti alle nove circa, sono le nove e mezza. Partono quindi da Staten Island, attraversano Brooklyn, salgono verso il Queens, poi fanno il Queensbury Bridge, salgono verso il Bronx, scendono verso Harlem e poi entrano in Central Park. Fanno tutta una parte di Central Park, la parte bassa di Central Park fino alla Fifth Avenue e poi salgono su fino quasi alla 72esima strada, dove finiscono, quindi proprio dietro casa. Ora è presto, arriveranno qua più tardi, quindi tornerò effettivamente a vedere, ma mi sono detto usciamo a fare un girettino al mattino presto per vedere un po' come hanno strutturato il tutto. Già ieri stavano costruendo transenne, postazioni, ci sono i bagni in giro per la città, bagni pubblici, cosicché chi sta correndo può fermarsi. Poi ci sono tutte le persone in giro per la città che fanno il tifo, che è fighissimo, che è la parte bella della maratona di New York. Polizia che controlla tutte le transenne, ambulanze varie in caso qualcuno si sentisse male. I marciapiedi sono transennati, qua c'è una parte per tutti i servizi, ambulanze, eccetera, chiunque abbia bisogno di passare c'è comunque lo spazio. Laggiù è dove effettivamente corrono. Qua è l'uscita, una volta finita poi la maratona. La metropolitana è attiva normalmente, quindi si può sfruttare. Quest'anno corrono 30 mila persone, ma arrivano anche a 50, 55 mila persone. È la maratona più partecipata al mondo, la più grande in assoluto. Con Yaki volevamo iscriverci e farla quest'anno, ma c'erano mille incertezze, non si sapeva per di più. Hanno ridotto il numero di partecipanti causa Covid. L'anno scorso invece è stata proprio annullata, quindi un sacco di persone che erano iscritte l'anno scorso sono state spostate a quest'anno, quindi insomma era un casino. Però il prossimo anno ci va un bell'allenamento comunque. Ed è poi per la città, per New York City, un primo passo verso l'andare oltre la pandemia e tutto quello che è successo. È un po' un simbolo di ripartenza per la città, per New York. Al momento sto andando a recuperare una bici ed eccola, semplicemente si tira via e poi si parte. Ah, c'è però dove è chiusa per la maratona. Comodissimo così. Ho lasciato la city bike, 3 dollari 85 per fare, non so, saranno stati 2 km, 3 km, non lo so, poco, pochissimo. Mi conveniva prendere la metro e spendere 2 dollari 75. Quindi Abe mi aveva avvertito, mi ha detto guarda che le bici, le city bike sono molto care. Non so, è bello girare in bici perché vedi la città, per quanto sia anche molto più pericoloso. Però, ogni tanto ci sta, insomma. Però mi piacerebbe avere un mezzo per girare in tranquillità. Davvero super affascinante con la musica, purtroppo non riesco a capire come arrivare proprio al finale perché è dentro Central Park. Quindi ho paura che dovrei fare tutto il giro intorno perché è tutto chiuso da questo lato. Bellissimo che fanno tutti il tifo. Sono quasi a Latine qua, sono praticamente arrivati, 42 km e mezzo quasi fatti. E tanto eh se ci pensate. Però qua New York deve essere incredibile. E ormai quando sei a 42 km non senti più niente, cioè vai per inerzia. A me succede già dopo 15 km ma... E poi ci sono diverse band, almeno sul temato finale. Che carina come roba perché ti gasano un sacco. Quello è vestito da banana. E poi fa molto ridere il fatto che chiudono le strade con i camion della spazzatura. Mi mettono per traverso e chiudono tutto così. Mi sposto in un'altra location. Sono comode quando non c'è la metro. Tipo qua era un po' un casino e quindi... Attraversano proprio questo ponte e stanno correndo lassù in questo momento. Questa con le mantelline è gente che ha finito la maratona. Comincia a vedersene un po', poi tra l'altro fanno partire la gente a ondate al mattino. Quindi vanno avanti proprio tutto il giorno. La gente stampa le facce della di altra gente che corre. E' bellissimo vedere come New York diventa un tutt'uno quando ci sono questi eventi. Voi sentite che gridano i nomi delle persone, ma non è che li conoscono, semplicemente leggono sulle divise e fanno il tifo per persone a caso. E' bellissimo. Devo assolutamente correre il prossimo anno. Qua lo dico, prometto che il prossimo anno verrò a correre la maratona a New York. Sono riuscito a attraversare. Andiamo a esplorare l'arrivo. Foto di gente con la medaglia e l'arrivo con New York dietro. Direi che è ottimo. Quando andavo in università correvo un sacco. C'era un periodo che facevo 10 km al giorno. Ero super gasato. Poi un po' smetti, un po' riprendi, ma non ho mai ripreso a correre così tanto. Mi piacerebbe. Ora vabbè, ho un po' di infiammazioni a ginocchio, cavigli ogni tanto. Ma perché sono stato quella settimana, tutta la settimana in piedi a Orlando e quindi sono... Devo riprendermi un attimo, ma assolutamente intenzione di riprendere a correre. Mi piace tantissimo. Ti dà proprio quella spinta, quella adrenalina per cominciare bene la giornata se corri al mattino e per finirla bene se corri la sera. Non so come spiegarlo se non avete mai corso, ma ti dà una carica veramente incredibile, indescrivibile. Per il finale ti servono i biglietti sostanzialmente, quindi non posso avvicinarmi al momento. Beh, insomma, comunque molto 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 affascinante. Corriamola tutti insieme al prossimo anno. In ogni caso mi dirigo a downtown adesso, perché poi stasera una scena lì, in realtà a Midtown. Però, insomma... Sono arrivato un po' prima per mostrarvi Little Island, prima di andare a cena, che è quest'isola che hanno costruito di recente, che dà una vista panoramica incredibile di tutta la parte del New Jersey e della parte downtown della città. Ed è tutta verde, molto particolare, anche a livello architettonico. Mi ha detto, visto che sono un po' in anticipo faccio un salto. Questo mi farà arrivare in ritardo, però. È tipo proprio un'isola. Poi ci arrivi con una passerella, quindi... Credo che il lato migliore sia quello di là, però provo a capire come arrivare su. Però è molto bella, c'è tutta questa zona comune e poi ci sono i punti panoramici. Assolutamente da vedere se venite a New York. Tra l'altro ora hanno riaperto, quindi davvero una meraviglia. Però dobbiamo andare perché sono in ritardo adesso, ufficialmente. Tornerò però a esplorarla meglio anche di giorno. Siamo al Chelsea Market. Ho speso circa un'ora a cercare un ristorante e ovviamente ho sbagliato a pronotare. È prenotato per domani. È prenotato per domani, però volendo domani possiamo andare. Ah no, hanno cancellato la... La prenotazione. Però il Chelsea Market dovrebbe essere molto molto bello. Ci sono un sacco di posti diversi. Tra l'altro... Per il canale di Marta si chiamava Mister Blob una volta. Non credo sia il modo giusto. Abbiamo alcuni problemi oggi. E assomiglia molto al mercato centrale a Milano, c'è il concetto esattamente lo stesso. Ah, mi sono reso conto che il posto che abbiamo provato l'altro giorno, Los Tacos No. 1, è super buono. Bello, merita. E di nuovo Tacos Messicani, sono super buoni comunque questi. Los Tacos No. 1. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Oh, and this is Mallory. Ciao Mallory, è bello di conocerti. Ciao, ciao. Tacos super buoni, ora andiamo alla mostra. Che è un po' particolare, adesso ve la racconto. Qual è l'idea dietro? È visualizzando i sogni. Ho bisogno di leggere anche. Ok, e tu invece mi dicevi che parte tutto, cioè tutto autogenerato. Esatto, praticamente lì sono elementi visivi che sono autogenerati da un'intelligenza artificiale e non sono mai gli stessi. Quindi in base al momento in cui vai, vedi qualcosa di unico. Esatto, ho fatto anche una mostra a Milano ed era molto fica. E per essere precisi, l'algoritmo parte da delle immagini della città di New York. Fichissimo. Proiezioni in 16K su tutto questo schermo gigante che raccontano la storia dell'architettura a New York. Più di 100 milioni di immagini hanno dato all'intelligenza artificiale presi dai social network per poi creare tutto questo. È piuttosto affascinante. Probabilmente troverete una foto su Instagram a chioccioleframlamesta. Seguitemi anche lì per avere aggiornamenti live di quello che faccio. Stanno succedendo cose strane. Davvero molto psichedelico. Certo che però quando l'hanno costruita la scritta Exit in mezzo al tutto mi sembra un po' stupido. Ma comunque qua hanno un po' di merchandising e poi si riesce nel Chelsea Market. Comunque sì, carino, però ci sono attrazioni tipo Sorin a Disney. Lo so che finisco a parlare sempre di parchi, ma il concetto era quello. Sono molto più immersive, hanno anche altri costi chiaramente, è Disney. Però comunque vabbè, affascinante, nulla di incredibile pazzesco. 20 dollari per entrare, quindi se volete farvi una bella foto su Instagram può essere un buon posto. O se vi piace l'artista. Tutti insieme in metro. Andiamo nella stessa direzione. Bye, I'll see you. Bye, guys. New York è notturna. Questa è la mia prima uscita serale, ma lo esploreremo meglio anche la sera più avanti. Giarteccio . Missления Giarteccio Guiseta Guiseta Grazie a tutti.